Di nuovo ben trovati ragazzuoli, mamma mia quante situazioni, questo è un periodo in cui sono molto attento al dettaglio, ai particolari di tutte le notizie che girano nel mondo del calcio, assorbo tutto come una spugna e poi piano piano a tempo debito condivido con voi le mie riflessioni e questo è un altro video di quello che deve portarci a una profonda riflessione, ma proprio profondissima già so che lo scopo di questo video è quello di condividere con voi il pensiero perché poi alla fine riuscire a cambiare il movimento di cui andremo a parlare è impossibile purtroppo Fatta sta triste premessa, partiamo con la nostra intro Ragazzi vi ricordo che questo è il canale Forza Lazio, io sono Manuel, mi raccomando ragazzi condividete le nostre informazioni che trovate scritte sotto ad ogni video video che nell'arco di questo mese raggiungeremo e supereremo addirittura la prestigiosa quota 1900 video con il rischio pesante di arrivare a fine anno con il raggiungimento dei 2000 video pubblicati Cioè ragazzi è tantissimo, per chi non si rende conto di cosa significa 2000, mettetevi a contare 1, 2, 3, 4, arrivate a 2000 Ogni singola cosa che contate è un video Ogni singola cosa che contate è un video di 10, 12 minuti, 8 minuti dietro il quale ci sta a mezz'ora 40 minuti di lavoro Oppure una live di 2 ore e mezza, 3 ore come facciamo quando vediamo le partite insieme Mi rendo orgoglioso questa cosa perché il lavoro comincia a diventare importante, davvero corposo e importante Fatta questa per me importante premessa andiamo oggi a condividere un pensiero Io vado a condividere insieme a voi della community Grazie a una bella intervista che la Repubblica ha fatto la scorsa settimana a Franco Causio Sampione del mondo 1982, ha giocato il classico, il famoso barone della Juventus Che in questa intervista dichiara di essersi reso conto da giovane di essere il barone Quando nonostante fosse giovanissimo lo chiamavano per giocare due partite a settimana con i più grandi Quindi chiaramente era un segnale tangibile anche per la sua testa da ragazzino Che era un giocatore di qualità eccelse e il barone lo era assolutamente, lo è stato Ma lo rimane anche fuori dal campo come valore e come quant'altro Perché in questa intervista rilasciata su Repubblica per me ha centrato un argomento che dire doloroso è poco E mi spiego meglio ragazzi miei Il barone senza troppi se e troppi ma ha detto che le scuole calcio sono il male del calcio E quando ho letto queste parole di Causio onestamente mi sono tornate in mente le parole che mi disse Beppe Signori Quando lo intervistai a luglio Perché Beppe che ha una scuola calcio mi disse Manuel io ho deciso di aprire un'accademia del calcio, non una scuola calcio Perché? Perché voglio dedicarmi ai particolari Ai particolari del ragazzo, nella preparazione dei ragazzi Io voglio pensare a quelli A me non interessano le macro aree dei calciatori Le macro aree di competenza e di preparazione dei calciatori Io voglio che il calciatore abbia la preparazione del dettaglio tecnico Dello stop della palla, del controllo, del giocare a testa alta Del passaggio di piatto, del tiro di collo, di mezzo collo, d'esterno Dello stop di testa, di petto, di coscia Tante cose, e torno all'intervista di Causio Che oggi ragazzi sono state estremamente spazzate via Buttate nel cestino dell'immondizia Perché? Perché adesso la priorità assoluta si chiamano muscoli Muscoli, muscoli Adesso quello che conta è l'atletismo La velocità Il muscolo La forza muscolare Vedete, vado sempre a rimbalzare su quell'argomento E Non si cura più il dettaglio Le scuole calcio Che si fanno pagare una marea di soldi Fanno a gara per avere Dei gruppi di lavoro enormi Perché più ne hai e più soldi guadagni E poi però Come fai In due allenamenti a settimana A curare il dettaglio Della Della scuola Della preparazione di questi giocatori Come fai? Non ce la fai Che vanno a fare questi ragazzini nelle scuole calcio? Che vanno a fare? A partitella Perché per loro diventa più importante la partita E poi che vanno a fare questi ragazzini? Non vanno a fa' un cavolo Vanno a fare Adesso le modalità di allenamento sono cambiate Adesso ci sono le stazioni di allenamento Ogni stazione è una zona del campo dedicata a un particolare esercizio Col tentativo di raffinare Qualche dote del giocatore Ma è tutto È tutto fatto in maniera approssimativa Caotica Tutto fatto in maniera Frettolosa Dove la frenesia Purtroppo la fa da padrona E quindi alla fine Sti ragazzi Su mille Ne emergono Dieci Quindici Se gli dice bene E te ne sei giocati l'altro Nel Nel discorso di Causio Un altro argomento Correllato a quello di cui vi ho appena parlato Mi ha colpito Perché si Si dice Una volta nel calcio Infatti è vero ragazzi Andatevi a vedere Le partite di 30 anni fa E i ritmi di gioco Ecco pure perché C'erano molti meno infortuni I ritmi di gioco Erano Molto 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 Al di sotto Al di sotto Di quelli attuali Ma proprio in maniera Importante Ragazzi Si Però lì Il giocatore aveva più tempo per ragionare Per mettere in moto la sua fantasia C'era La possibilità di vedere Un Una giocata Dettata dal talento Veniva dato spazio Al talento Quel talento Che adesso O ce l'ha in maniera Straripante Innata Oppure sei Uno dei tanti Ecco Questo Onestamente Vi faccio un esempio Ecco Mo vado a prendere un argomento Che tanto non è Mo perché gioca nella Roma L'ho sempre pensato E voi lo sapete Per me Lukaku È Un calciatore Inguardabile È l'anticalcio È un intruppone Lukaku È il prototipo Di calciatore Della nuova era Muscoli E velocità Potenza Muscoli E velocità Stop Se so più potente Do più fisicità Dei miei avversari Faccio la differenza Altrimenti faccio Delle figure di cacca Ecco Focalizzo in Lukaku Il tipico prodotto Calcistico Di questa Ultima Era Ecco E onestamente Mi trovo E vado qui a concludere Estremamente d'accordo Con questa riflessione Che il buon Franco Causio Ha fatto in questa intervista Su Repubblica Onestamente Ha ragione E Non Voi Chiudo proprio Facendo una domanda a voi Siete per questo calcio Anche se molti di voi Sono giovani E magari Conoscono solo Questo calcio Lo dico quindi Ai più vecchietti È rivolto questo A mio appello Voi siete Più per questo calcio O Per il calcio Di una volta Che magari dava Possibilità Di evidenziare Il gesto Tecnico Più che la Fisicità Del Giocatore stesso Fatemi un pochino sapere Cosa ne pensate Vi mando Un abbraccio forte E forza Lazio a tutti Grazie 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 a tutti